Cosa vi devo far vedere? Allora, io le mie decorazioni che ho fatto, dunque ho fatto dei paesaggi ispirati al lago Trasimeno perché il nostro corso è ispirato al lago Trasimeno e facemmo tutte le decorazioni ispirate al lago Trasimeno. E come avete riflettuto sul lago? Ispirato a un pittore umbro, dottore, futurista. Sì perché ci ha affascinato proprio quello. Quindi veniva uno storico dell'arte? Sì c'è stato lo storico, sì. Avemmo fatto un corso che ci ha illustrato tutti i quadri dell'ottore, gli adduttori. C'era storia della ceramica fatta da un insegnante di Deruta. C'era tutto un'infarnitura generale, un po' di tutto. Poi ecco a me mi piace fare i volti, il figurativo. Lo preferisci? Lo preferisco, sì. Ho fatto ritratte su piatti a chi me l'ha chiesti, tutte queste cose così. Poi la gestistica la fai perché tanto la gente compra quella. Ho fatto delle decorazioni con i pizzi, perché abbiamo riportato un po' di pizzi sulla ceramica. Perché poteva essere un discorso interessante. Tanto questa è già stata fatta. C'è certe trame dei pizzi, dei ricambi del Trasimeno che sono stati riportati sulla ceramica. Io ce l'ho portati. Poi ci sono state anche altre persone che l'hanno fatto prima di me. Che significhi? Una ceramista che sta a Castione Fiorentino e aveva un laboratorio a Isola Maggiore, Maria Letizia Bittoni. Lei aveva riportato in ceramica e in più i pesciolini disegnati. Riportarli in trama significa che fai il disegno? Sì, aveva fatto tutta la trama della rete. La rete del filetto, capito? Come quello lì, molto semplice. Io ci ho riportato altri pizzi. Pizzi che trovi in casa e li trasporti sulla ceramica. La tua preferenza quindi è per la sperimentazione. Sì, un po' sperimento, un po' mi diverto. Non è che ho una cosa... Senti, questi? Sì, questo l'abbiamo fatto con la Monica. Lei ha fatto il cappello e ho fatto la base. Anche quello azzurro dietro. Anche questo azzurro però, un po' è cascato. Cappellino con la testitura e ci ho messo un bordino fatto con la ceramica. Questi gialli invece che prima mi dicevi con la sabbia e degli esperimenti. Qui ho fatto un altro esperimento, ho mischiato la sabbia con il colore giallo e ho ottenuto questo disegno. Questo colore. Anche la finitura, no? Questo colore, sì. Se lo tocchi, senti, si sente proprio la sabbia. E anche questo è blu con la sabbia. Un po' gli esperimenti così. Grazie. Grazie.